Anche se il momento è difficile e sofferto a causa della pandemia, specialmente per le persone più vulnerabili e sole, esprimo il mio augurio di un Natale di luce e di speranza. Gesù che nasce è la nostra vita, è la possibilità di rialzarci e di guardare ancora il cielo. Buon Natale a voi e alle vostre famiglie e auguri di un nuovo, migliore e benedetto anno nuovo. Grazie per la visione!